Una rete potente per attirare le anime. 14 marzo 1978. Figli di Letti, sia pace e grazie ai vostri cuori. Sono con voi. Sono il rifugio dei peccatori, e vengo a sollecitarvi preghiere, lacrime, sofferenze, per quelle anime che, essendo ribelli alla volontà di Dio, rifiutano la sua grazia e il suo amore. Quasi in ogni famiglia c'è, come si suole dire, il pulcino nero, che è una spina nel cuore della mamma o della sposa o dei genitori, ma, se per voi è una spina, per me è una spada che mi ferisce il cuore. Ecco, figli, come è doveroso fare qualche cosa per queste anime, che si perdono rinnegando la propria fede, rifiutandosi di ubbidire alla legge di Dio, e che crocifidono in cuor loro il mio figlio. Dobbiamo stendere una rete potente, dentro la quale abbiano a trovare ciò che loro necessita. Dobbiamo additare la luce, dobbiamo fare strada perché questi figli, e fratelli vostri, ritrovino la vera gioia, e godano al pensiero di continuare nel cielo quell'unione con Dio, che deve cominciare sulla terra mediante la grazia. Ma quale sarà questa rete misteriosa che ci permetterà di attirare le anime? Insisto dicendovi che è il rosario, del quale molte volte vi ho parlato, ma è anche la vostra bontà, che può essere la calamita che attira. Non è vero che, molte volte, davanti ad una persona buona, non sapete resistere e fate ciò che essa vuole? Sì, figli, non finirò mai di dirvi, siate buoni. Siate buoni, ma non di quella bontà passiva, che accetta il bene e il male allo stesso modo, o di quella bontà che è più indifferenza o finzione, che un sentimento di fratellanza che vi fa agire, pensare e accettare i diversi caratteri e le diverse situazioni. Siate buoni fino in fondo, desiderando il vero bene di tutti e non lasciandovi sfuggire nessuna occasione di giovare al vostro prossimo. Se davanti alle insistenze di una sposa o di una madre, mariti e figli possono rispondere negativamente, davanti alla bontà che sa quotidianamente immolarsi, dedicarsi, rinnegare se stessa per fare contenti gli altri, difficilmente si potrà resistere. Una rete voglio stendere sul mondo, e io stessa la voglio gettare chiamando tutti come a una crociata di bontà. Una bontà fatta di opere di misericordia, di fiducia in Dio, comunicata ai fratelli attraverso la fede, che spiana le vie e rende facile il sacrificio. È una rete che deve riempirsi fino a minacciare di rompersi, come quella della pesca miracolosa, poiché è ancora Dio che chiama, che comanda alle onde e ai pesci, che vuole il ritorno a Lui in un amore fatto di pentimento e di conversione. I vostri fratelli devono ritrovare la luce. Chi gode della luce degli occhi, può essere di guida ai ciechi, che di essa sono privi. Chi gode la luce dell'anima, può indicare la strada a chi non la vede e non la desidera. Ma che cos'è questa luce di di cui Giovanni parla nel Vangelo, dove dice, la luce splende fra le tenebre, ma esse non la compresero. La luce è Gesù, figli, che voi dovete portare nel cuore mediante la grazia. È Lui il sole che deve illuminare la vostra mente, le vostre parole, le vostre azioni, così da renderle luminose. E Lui, Gesù, che vivendo in voi, deve irradiarsi sugli altri. La luce distrugge le tenebre. Più essa sarà vivida, e più sarete in grado di parlare di Lui, di persuadere ed infondere la verità. La vostra vita interiore deve essere continuamente alimentata, deve essere sempre più rigogliosa. Ogni atto d'amore è come un fuscello che aggiungete al fuoco, che divampa sempre più fino a diventare un incendio. Quando gli ebrei attraversarono il deserto per giungere alla terra promessa, davanti ad essi vedevano come una colonna di fuoco che indicava la strada. Il vostro amore per Dio, che vi fa dimorare in Lui, il vostro amore per i fratelli, che è l'amore di Dio tradotto in pratica, sarà la colonna di fuoco con cui richiamerete i lontani a pensieri di pace, a pensieri di fede, e alla speranza dei beni eterni. Non turbatevi, non perdete la fiducia, non dubitate dell'assistenza di Dio in tutte le vostre necessità. Se camminate sulle orme di Gesù, se rimanete al mio fianco, io vi guido e non vi mancherà nulla, ve lo prometto. Sarete la rete, sarete la luce, e sulle vostre orme altri cammineranno. Vi benedico tutti, coi gruppi che rappresentate e che conducete. Quando venite qui, attingete forza da portare altrove. È bella la comunione di anime nel Signore. Oggi vi ho resi partecipi del valore, non solo di alcune sante messe, ma di tutte le messe celebrate nel mondo. Chi è vicino a me e mi ama, gode di tutto ciò di cui io godo. Non perdete la pace, e attenetevi ai suggerimenti che quotidianamente vi do per rendervi equilibrati, saggi e forti nella fede, nella speranza e nell'amore. A tutti il mio abbraccio da portare ai vostri familiari e a coloro che pregano e collaborano con voi. Arrivederci, figli! La Pasqua, di cui inizierete tra pochi giorni le celebrazioni, vi trovi entusiasti e ferventi, perché il vostro amore susciti conversioni e ritorni a Dio.